Un'opportunità di intelligente collaborazione, così il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso ha definito l'intesa interistituzionale tra la Regione Abruzzo e il Tribunale di Pescara. Un accordo che potrebbe consentire di colmare le scoperture di organico e garantire tutte le coperture distrettuali facenti capo al Tribunale di Pescara. Si tratta di uno strumento che la Regione Abruzzo, prima in Italia, ha avviato da circa un anno coinvolgendo tutti i tribunali abruzzesi. Un'opportunità formativa per i dimeniti regionali che verrebbero distaccati temporaneamente negli uffici giudiziari.